Padre Simoli, oggi un altro momento molto atteso per quanto riguarda il patrono di Adrano, San Nicolò Politi, la messa qui all'Aspicuddu, il simbolo di questa celebrazione di oggi, un suo messaggio a chi ci segue? Intanto noi non facciamo festa grande in paese perché prevale la patrona dell'Arcidiocesi, che è Sant'Agata, in quanto nel tempo sono state ritrovate le reliquie, per cui è la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Per cui la festa l'abbiamo così inserita con San Pietro e la Madonna della Catena, però oggi certamente non può passare questo giorno inosservato perché stando un po' alla tradizione, anche alla biografia di San Nicolò Politi, oggi lui 17 agosto 1167 nasce al cielo perché per i cristiani la morte è appunto la nascita al cielo. In questo luogo particolare, a Spicuddu, qui a due passi dal paese, noi ricordiamo il primo rifugio dove San Nicolò ecco in maniera particolare si incontra con Dio, lo faceva già in paese, ma qui in maniera particolare perché trova solitudine attorno a sé e soprattutto il silenzio dentro di sé, per fare sempre di più scoperta di Dio nella sua vita e poterla testimoniare agli altri. Grazie.